Signor Marchese, mi scusi se prima di andare a dormire mi sigla due conticini che si sono fatti unire. Sì, quando mi sveglio. Sono improrogabili. Sì, improrogabili, piando il culo. Dammi la mano, queste cose improrogabili. Dove stanno? Qui sul tavolo. Tu però i conti mi devi dà quando io mi sveglio, non quando vado a dormire. Andiamo. Chi è? Chi è? Chi è? No, no, questo è il calendario. Eh beh, paga pure questo, che mi importa. Non c'è altro, vero? Sì, ci sarebbe di là Aronne Piperno lebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici? E credo di sì, signor Marchese. E allora, facciamo giustizia. Sì. Fallo venire. Aronne Piperno. Mo' pago. Chi è? Aronne Piperno. Vieni, 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 vieni avanti. Ti berisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella Buasserip, bella Armatio, bella Cassapanca, bello, bello, bello tutto. Bravo. Grazie. Adesso ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto, adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo, sto conticino. Ecco. Ecco il conticino, ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che ce faccio? Ma come che ce faccio? I soldi miei. E non ti do? Come non mi da? E come? Vuoi sapere la procedura? Eh, sì, sì, sì. Io i soldi non li caccio e tu ne i becchi. Ah, ho capito. Me vuoi fare uno scherzo. E credo. Ecco, bravo. Chiamalo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi. Ne raccontano tanti. E allora racconta pure questo. Vi perdo. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto? No. Il Marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga? Io non te pago. Buttalo fuori. E c'è qualche cosa che non fa, eccellenza. Ma tu, taronna mio. Tanto comincia a dire che nell'armatio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che c'ho... Non è una buona ragione questa? Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto? Ma certo, eccellenza. Cosetti, comunque se credi avevi ragione, fammi causa. Ma io c'ho ragione. E va bene, sei giudici, dà la tanna e io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato... Ce li pensi, eccellenza. No, no. Vengo domani? No. Io c'ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? E ne devi andare.